Il go-kart è un po' uno sport novità almeno per le nostre zone. Ed è appunto per questo che il karting club giudicariese, un ennesimo sodalizio costituitosi di recente astoro, che viene ad infoltire le già numerosissime associazioni che operano sul nostro territorio, ha voluto presentare una prova dimostrativa della spettacolarità di questo sport. Ne ha offerto l'occasione il primo trofeo Ianello Scarpari, che per tutta la giornata di ieri ha presentato una serie di competizioni suddivise in 18 batterie riservate ai go-kart delle categorie 60, 125 e 150. Erano presenti molti piloti in rappresentanza di molte province del Veneto, del Trentino e della Lombardia, che si sono affrontati sull'anello di asfalto, approntato nei pressi della zona industriale, su quei piccoli e indiavolati bolidi incollati sul terreno. Un folto pubblico ha dimostrato di apprezzare le spettacolari evoluzioni, interessandosi però maggiormente alle gare dei mini-kart riservate ai piccolissimi. Bambini di età non superiore ai 10 anni hanno sfoderato una grinta e una temerarietà da fare invidia ai più grandi. Bambini di età non superi. 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 Bambini di età non superi.